e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono thunder official bentornati oggi in questo video prima di iniziare volevo dire alcune cose che allora praticamente ho aggiornato il mio banner non ritoccato un pochettino e sono convinto che vi piacerà di più adesso quindi andate a dare un'occhiata quando potete sul pc che si vede meglio perché telefono lo taglia un po comunque detto questo possiamo iniziare arriviamo a 35 mi piace per un prossimo tutorial installazione oggi ebbene sì vi farò vedere come installare usare steam link cos'è steam link innanzitutto fa parte della valve corporation di steam cerchiamo steam ed eccolo qua steam link beta ok io non sono un beta tester non sono entrato nei beta test non so nemmeno se c'è ok no non c'è ok quindi è proprio così di suo beta l'ultimo aggiornamento è stato dieci giorni fa 4 lunghi dove hanno corretto varie cose fix bug così i tocchi insomma come funziona innanzitutto dovete andare sul pc adesso vi faccio vedere quindi innanzitutto dovete aprire steam sul vostro computer una volta che avete aperto steam dal pc dovete semplicemente andare su steam link beta applicazione apritela ok io lo faccio insieme a voi la procedura facciamo impostazioni computer e ricercherà il computer che eccolo qua ho trovato se volete potete fare anche un test di rete ma non ci interessa il momento avanzate automatico consegnato risoluzione dello schermo comunque ci dovrebbe essere una sezione ora io non posso farlo da qui voi andate su steam impostazioni poi c'è e fate remote play e fate eh associa steam link e metterete il codice che steam link vi darà se ve lo da altrimenti individerà il pc tramite connessione perché si devono essere connessi tramite la stessa connessione altrimenti non funziona qui dice anche connessione discreta non è vero assolutamente perché ho 5 mega 6 mega di download e non è vero niente vi ricordo che è una beta e quindi potrebbe avere tanti problemi tanto ciao ciccio gamer che sta facendo video facciamo la connessione e vi dimostro che non è fake ecco io in questo momento sto vedendo quello che vedo sul computer vero libreria negozio web comunità chat e tutto tutto quello che c'è anche su pc cliccate in libreria abbiamo un gioco tipo carmageddon max damage fate gioca non so ma gioca va ok e adesso vedrete che non è che non vi sto trollando in nessun modo un attimo che sta caricando se vedete far fallare un attimo aspettate aspettate che il gioco si apre appena ecco dovrebbe avviarsi a momenti e qui mi sa che si è glitchato qualcosa perché non potrei vedere il desktop comunque vi faccio vedere già da qui che ci sono ormai ci sono vi faccio vedere dov'è il mouse è stato scoperto in modo involontario chiudiamo questo allora cammageddon non si avvia facciamo windows shift no shift tab ed ecco siamo sul desktop con il pc intanto disattiviamo comandi perché sennò danno nulla a voi che dovete fare vi faccio vedere da qua andate qua su windows nella barra di ricerca ricercate da qua con la tastiera steam eccolo qua levate la tastiera scusate ragazzi e la rifacciamo e la rifacciamo steam levate la tastiera poi cliccate vabbè ovviamente vi importa di qua comunque vi si aprirà steam normale e lo tenete a schermata voi aprite steam e lo tenete fermo poi andate sul telefono avviate steam link e vi si connetterà principalmente così lo trovate così poi potete mettere le gesture e tutto potete mettere controller touch tutto quanto allora riproviamo ad avviare il gioco e vi mostro subito come funziona ok allora avviamo il gioco steam pronto al gioco benissimo abbiamo non so Carmageddon Master Mage questo qui funziona bene ok ragazzi eccoci qua pronti per giocare inizia partita alziamo un pochino il volume potete associare anche un controller tramite bluetooth con il pc non so bene ora come si faceva vabbè lasciamo stare io ce l'ho già associato quindi posso usare un controller tranquillamente credo è che è associato va bene vai no scelta il gioco eccolo qua facciamo tipo questo ho il controller non sto toccando lo schermo perché sennò si vedeva un pallino ok ti può facciamo una partita breve così veloce una dimostrazione inizia ragazzi vorrei almeno 35 mi piace per favore per quello che sto facendo che è tanto stiamo giocando vi ricordo che non stiamo giocando con il telefono ma in verità stiamo giocando con il computer e ora mi chiederete ma perché ma se io vedo che è tutto sul telefono appunto però il gioco si trasferisce l'immagine il video e tutto al telefono però ricordate che se il gioco va non va con le prestazioni del telefono perché altrimenti sarebbe un disastro perché non comincerebbe allargato una grafica simile ma va con le prestazioni del computer in questo caso solamente un trasferimento immagine barra video avete capito scusate ok eccoci ci siamo non sto toccando i tasti ho un controller sentite eccolo qua come vedete diciamo che funziona bene non vi ti da coglioni stronzo vabbè tutto dipende dalla vostra connessione ovviamente se avete una connessione scrausa comincerà a scattare tutto a laggare vabbè nemmeno a me non è che mi va performante però sicuramente non lagga molto potrebbe esserci qualche problemini a volte a volte qualche micro lag ma niente di che frena 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 ok repellente per avversario questo vi ricordo che era un piccolo anticipo dello speciale che devo fare per tutti quanti gli iscritti che mi state dando ragazzi vorrei arrivare a 200 iscritti non so se sarà possibile io metterò tutto l'impegno che posso mettere per voi per il canale per youtube che vi venghi bene perché siamo una famiglia e ci aiutiamo a vicenda io faccio video a voi vi piacciono li guardate ok facciamo così qualche diretto giusto qui e poi interrompo perché vi ho saputo quanto mi viene lungo questo video poi ok c'è un avversario mi fa ecco fatto era il repellente per avversari se vedete su uno schermo dove ci sono i tasti direzionali in basso sotto una mappa c'è tipo un gancio quel gancio serve per come per di prendere la macchina perché quando voi fate il recovery con l'auto vi spreca i crediti i crediti su quelli in alto con la stella è come ti ho trollato eh è scelto bravo ah ti sei fatto da solo fuori bravo hai fatto una scelta giusta guarda ma hai risparmiato perché stavolta ti facevo un briciole amico comunque ragazzi dai io dico che per così può anche bastare poi se volete uscire gioco ovviamente alt f4 benissimo si dovrebbe chiudere nel caso non si chiude andate con il niente ok un attimo che devo chiudere il gioco di una si è bloccata tutta una finestra chiudiamo anche steam niente ragazzi dai io dico che per questo video è tutto se vi è piaciuto ma davvero questo è un impegno che io ci ho messo arriviamo a 35 barra 40 mi piace e io vi porterò altri tutorial del genere quello che volete voi scrivete hashtag e poi il tutorial che vorreste vedere a parte fortnite perché quello non ce l'ho compatibile detto questo è tutto mi raccomando like condividete iscrivetevi e noi ci vediamo a prossimo video bella